Il kite sailing, il kite bugging e dopo che questi aquiloni mi hanno impegnato per qualche anno dico ok smetto di fare questo e decidi di fare aquiloni particolari così faccio aquiloni grandi Non fare questo. Claus, gli lanciano diffusse la grande musica Verso 10 тради – uno dei più batti Ricchieri piano e tra America accia CV, su questaya Ricchieri piano e dai più batti ricchieri in profondi per quel filosofje Ricchieri piano e dai liberi Ricchieri capsicoli Sinkin' the old, the cripple and the young Come to find some healing Children's strummin' of guitars While Mojo be the bingy drum They have found what they're missin' This music, well, keep the people dancin' This music, well, keep the children playin' See, Jaja, send the Rastaman with the music to bring the people healin' Yeah